Questo è stato Marco e questo sarà sempre, nella riconoscenza che portiamo per lui, sempre Marco Pannella. Grazie Francesco Ritelli. Ora io do la parola al sottosegretario della giustizia Gennaro Migliore. Nessuna delle carceri in cui sono stato, anche recentemente, non capitava che ci fosse un detenuto, così come qui ci sono i detenuti di Re Bibbia, che saluto e che ho incontrato tante volte, che mi dicesse come sta Marco Pannella. Non so se molti di voi si possano rendere conto di che cosa significa incontrare una persona ristretta, in cella. Grazie.